Il comune di Pescara ci riprova e con la delibera numero 20 del 9 marzo 2023 recepisce il decreto sviluppo del governo Renzi che prevede una premialità di volumetrie edilizie a fronte di una riqualificazione urbanistica. Era accaduto già nel 2017 e anche allora a cittadini e associazioni non era piaciuto il completamento di alcuni cosiddetti eco-mostri sulla riviera in netto contrasto col piano urbanistico di Piccinato che negli anni della ricostruzione del dopoguerra limitava la volumetria edilizia sul lungomare secondo criteri di altezze gradualmente crescenti verso l'entroterra per evitare sbarramenti alla brezza marina. Questa volta però l'associazione Italia Nostra e il comitato Salviamo Pescara e la Riviera hanno presentato un ricorso al tar per annullare la contestata delibera numero 20 ed evitare che con essa si stravolga il profilo del lungomare pescarese come spiega Ilaria Sacuella portavoce del comitato. Oggi viene versata sulla riviera una quantità diciamo di cubature di premialità notevolmente incrementate fino al 55 per cento in più di cubature esistenti quindi questa delibera porta alla possibilità di realizzare degli edifici sulla nostra costa con delle sagome notevolmente incrementate rispetto al tessuto esistente quindi andando completamente a snaturare la nostra riviera. Questo è anche molto in antiste rispetto a quello che è il piano piccinato. Il piano piccinato cosa voleva? Voleva che la nostra così come sono costruite tutte le città di mare cioè si hanno delle costruzioni con delle altezze crescenti dal mare verso l'interno quindi creare questa cortina di edifici da 25 metri sulla nostra costa è sicuramente qualcosa che va a svalutare la nostra città. La riviera è il nostro biglietto da visita quindi noi come comitato abbiamo abbracciato questa scelta e vogliamo sostenere l'associazione in questo ricorso che terriamo sia giusto nell'interesse di tutti i cittadini. L'esito del ricorso presentato a maggio si conoscerà al massimo entro due anni quando il tar si pronuncerà con un'udienza di merito ha spiegato Lorenzo Passeri avvocato di Italia Nostra nel corso della conferenza stampa che si è svolta a Pescara nella biblioteca Falcone e Borsellino di Viale Bovio. Per Massimo Palladini presidente della sezione di Pescara di Italia Nostra variare il governo del territorio decidere che la riviera non è più un luogo a meno ma è un luogo della diciamo di palazzi intensivi è una scelta urbanistica il decreto sviluppo invece è una semplice delibera invece l'urbanistica delle procedure degli spazi di partecipazione delle possibilità di opporsi allora loro vogliono fare Rio de Janeiro la città dei grattacieli sul mare lo devono fare con una variante al piano regolatore non semplicemente riunendosi una volta in consiglio comunale allora questo è un punto secondo noi di illegittimità e noi quindi ci opporremo a questo perché è l'unica maniera con la quale insomma la cittadinanza attiva può interloquire con l'amministrazione noi chiediamo anche in questa occasione spazi di partecipazione che tutte le volte ci vengono legati e allora resta la strada del ricorso al TAR quando ce ne sono gli estremi.